Partita la settimana biblica diocesana ad Andrea, l'undicesima edizione dedicata al tema giovani nella Bibbia con l'intento di concentrare in questo anno pastorale l'impegno sugli ambiti dei giovani e delle famiglie di sottolineare il rapporto tra le figure giovanili e le figure adulte. Ieri l'apertura con il Vescovo Monsignor Luigi Manzi. Prende il via la settimana biblica diocesana quest'anno, secondo le intenzioni proprio del Vescovo della Dioce, si è centrata sui giovani. Sì, Bibbia e giovani. La Bibbia è popolata di storie di giovani, belle, la gran parte belle, qualcuna anche meno. Però troviamo nella Bibbia tante tante ispirazioni, tante idee, tanti punti di confronto con le storie che oggi noi viviamo. Tutto l'anno pastorale, non solo della nostra chiesa diocesana, ma diciamo della chiesa per via del sinodo che si è fatto nei mesi scorsi, tutta la chiesa sta riflettendo su questo tema dei giovani. Farci aiutare dalla parola di Dio che è lo scrigno dove si conservano i tesori delle origini della nostra fede è quanto mai prezioso. Quindi ci parlano studiosi, persone che hanno a che fare con la Bibbia tutti i giorni per il loro lavoro, non solo perché sono insegnanti di Sacra Scrittura, ci faremo aiutare a scoprire, a capire, a conoscere bene alcune delle storie e a ricavare indicazioni preziose per come noi dobbiamo muoverci nell'andare incontro ai giovani, cercarli, amarli e aiutarli a crescere nella loro fede. Parlare dei giovani, ma soprattutto la chiesa ha il problema di riuscire a parlare ai giovani, con i giovani, perché sembra che ci sia quasi un cortocircuito. Sì, sì, parlare dei giovani certamente, ma riflettere su come parlare ai giovani, perché abbiamo bisogno di ritrovare innanzitutto la gioia, l'entusiasmo di farlo questo servizio, perché noi tante volte siamo un po' preoccupati, bloccati, scoraggiati e non lo facciamo. Quindi trovare i linguaggi, le forme, le idee per tentare l'incontro con i giovani. E quando si tenta non è detto che il primo tentativo poi va a buon fine, però bisogna farlo, guai a non farlo. Certo, i tempi sono difficili, ci sono larghe fasce del mondo giovanile che ormai sono molto lontane, distanti dal mondo ecclesiale. Non dico dalla fede, perché poi ognuno nel profondo del suo cuore, qualche briciola di fede, io sono convinto, comunque ce l'ha. Si tratta di intercettarla nel modo giusto, di aiutare questi ragazzi a porsi in maniera serena, non prevenuta. Certo il mondo che viviamo non ci aiuta, però, ecco, parlare dei giovani, ma studiare insieme su come parlare ai giovani. Credo che questo il Signore ci chiede. Ed è il senso proprio di questa settimana biblica. Eh sì, perché, come dicevo all'inizio, nella Bibbia troviamo tante storie di giovani e vedendo come si sono svolte, come sono state affrontate, come si sono poi risolte, ci può dare suggerimenti preziosi.